dobbiamo andarcene in fretta, presto di qua, hanno lasciato qui i cavalli presto andiamo ecco Raotep, sei vivo? State tutti bene? Dov'è mio padre? Mi dispiace, i demoni l'hanno portato alla fossa dei coccodrilli. Non potevamo fermarli, Raotep. I demoni non sanguinano, loro sì. Ascoltatemi. Tutti voi dovete la vita. A mio padre. Turo, ricordi che si è fatto frustare per difendere tua figlia. E tu, ha attraversato il deserto per portare un guaritore da tuo padre. Ora lui ha bisogno di voi. Se è vivo, lo salveremo. Se è morto, lo vendicheremo. In ogni caso, lotteremo. Vendere! Cara a tutti la ghiudone! Tu sei proprio come tuo padre. Hai ragione, Raotep. Demoni o no, noi ti seguiremo. Siamo pronti? Siamo pronti dal giorno in cui quei demoni ci hanno attaccati. Andiamo a salvare... Dove è vero. Siamo pronti dal giorno in cui commiscono. Siamo pronti dalla scena. Siamo pronti dal giorno in cui non si intende. Oh Che succede basta mi prego mi sei Che vuoi da me? Sono un amico riesce ad alzarti dobbiamo andarcene non credo Non ci vedo mi hanno torturato e accecato C'è un molo sicuro Non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo Padre sei vivo? Che succede? I demoni mi hanno preso gli occhi ma non hanno preso mio figlio Mi hai salvato Tuo figlio è valoroso Felice di averlo aiutato Ma dubito che avrà bisogno di me in futuro Vi guiderà bene Ora devo andare a cacciare i miei demoni Non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo Ciao Ciao Ciao